Nella galassia del Palermo, targato City Football Group, il mondo del calcio gira in senso inverso alla normalità o schizofrenia se preferite del panorama italiano. Spesso le soste vengono sfruttate per cambiare l'allenatore che non fa risultato e dare il tempo al successore di lavorare una decina di giorni in una sorta di mini ritiro per conoscere e farsi conoscere. Ma è proprio la parola risultato che stride con questo ragionamento perché a Como Moreno Longo paga per il bel gioco che non c'è nonostante la vittoria ad Ascoli e la zona playoff, mentre a Palermo Eugenio Corini incassa in un colpo solo la fiducia di spogliatoio e dirigenza. Parole poche, anzi nessuna, nel confronto tra squadra, tecnico e direttore sportivo è emersa la volontà di risollevarsi insieme e quello che ci si dice a Torretta resta all'interno delle mura del centro sportivo. La società invece prende la strada del silenzio dopo il rumore forte e assordante di una contestazione partita questa volta senza equivoci dai gruppi del tifo organizzato. Dagli inchini a Modena per ringraziare la presenza costante in trasferta come fossero le curve del Barbera ai silenzi del posto Cittadella seguito ai fatti. Corini resta, resterà sino a quando reggerà la pressione dell'ambiente e pagherà il suo conto con il City Football Group e solo a scadenza del contratto a giugno prossimo quando verranno flaggati gli obiettivi che sono stati dichiarati anche in conferenza stampa dal tecnico, senza troppo mistero. Centrare i playoff e restare sempre nelle prime cinque posizioni. Il Palermo è terzo, non giocando a calcio, si saranno detti a Manchester. Immaginiamo se inizierà a farlo dopo la sosta, dove potrebbe arrivare. Il mese di Eugenio Corini inizia a Terni. Il 26 novembre si concluderà il 26 dicembre al Barbera contro la Cremonese. In mezzo il Catanzaro, la trasferta di Parma, il Pisa in casa e la gara proprio a Como, dove il mondo del calcio gira al contrario, da Manchester e da Palermo.